Buon pomeriggio, benvenuti a questa pillola di cinese di oggi. La parola di oggi è ha-shan, in cui c'è una g in fondo che si sente appena. E' un termine derogatorio, cioè un termine volgare, usato sia per insultare i contadini, equivalente alla forma antica italiana di Villano, sia utilizzata per indicare persone stupide e poco intelligenti. Una sottoscrizione e un like aiuta con l'algoritmo di YouTube. Vi ringrazio e buona serata. Grazie